Mi chiamo Roberto Bussenghi e vengo da Osmate Karate Ogni mattina mi presenta Pizzarrone e passi la tua canna e voglio un gang allaura Qui è dove anticipatamente ci cambiamo e mettiamo sulla divisa E con sulla divisa è come se affrontabimo una trasformazione L'uniforme ci ricorda di rimanere su chi va là E con il traffico delle persone e con il traffico delle merdi Vadi, 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 vadi Per noi la vestizione è un rituale, dallo scarpone alla mostrina, dalla pistola al basco Venite al spogliatoio, faccio vedere Possiamo rifarla questa Signore e signori, bentrovati alla dogana di Brusata a Pizzarrone Rivolgo un saluto alle autorità presenti Eh, no, no, non ci sono, c'è solo Veronelli con il cane Veronel! Oi! Riesci a tenere un qualsivoglia contegno? Se mi spieghi cosa vuol dire, volontieri Scusi, eh, non siamo abituati ad essere tirati giù in televisione Pas problema Mi fa un ciak con la mano? Attualmente è mattina L'orario è prestivo E siamo posizionati nel centro nevrastenico della dogana Come un libro stampato, Loris Cosa fa, cosa fa, cosa mi fa il bilux a fare cosa? Vuoi la berna, vecchio macaco? Come ti butta? Perché mi ha fatto i bilux? Cos'è che ti ho fatto io? Bilux a fare, lei C'è il sa Jackson Crappa? Oh, cos'è mangiato stamattina, i croccantini del gatto? Come dite voi, Asuri, i fari alti e intermittenza? Ah, gli abbaglianti Gli abbaglianti Ma i fari alti cacciamo gli abbaglianti Forse, Loris, gli abbaglianti Diretta a piazza, ne gli abbaglianti Scusatene, ma se voi in Svizzera parlate clingoniano e non italiano È forse colpa mia? Non dica cosa è a sbalzo A sbalzo nel senso di abambera? Sa' che è a fare i brillanti con l'autorità? Quei sono gabole Sono gabole? Ma sai che se stamattina parlo con Rex mi sa che ci intendiamo di più Per un L, marca giù AX753JR Guarda nel classeur se ci sono corrispondenze E tirami qua anche il Nathel, che l'ho lasciato lì vicino ai Roladel Ok Ma come parlate? Usenghi, se nel baule c'è dentro un slavsack Ti conviene prenderlo perché mi sa che chi fa in nocce Uno slavsack? Se ti avrete far dormire come pigiama poti prestare tutto il mio training Scusate, se avete finito col piccolo dizionario degli orrori Io posso procedere? No, si mette qui nel cantone per cortesia Quale? Ticino o Glarus? Ticino o Glarus Grazie a tutti.